Giorni decisivi in Casa Pescara dove si aspetta l'ufficializzazione del nuovo allenatore. In pole position e non da questi ultimi giorni c'è Luciano Zauri, tecnico della Primavera Biancazzurra che quest'anno ha centrato la promozione nel campionato Primavera 1, superando in un serrato testa a testa la Lazio. Il nome di Luciano Zauri in realtà è circolato con grande insistenza anche nel corso di questa stagione quando la prima squadra ha accusato di passaggio a vuoto nel corso del girono di ritorno. Se Pilon fosse stato esonerato nei mesi scorsi, Zauri era il candidato numero uno a subentrare. Originario di Pescina ed ex calciatore con oltre 500 presenze da professionista, di cui 319 in Serie A e 13 in Champions League, ha indossato le maglie di Atalanta, Chievo, Lazio, Fiorentina e Sampdoria, oltre che quelle della Nazionale e del Pescara. Zauri è destinato a dare continuità ad una recente tendenza del club biancazzurro di affidare la prima squadra all'allenatore della Primavera. La grande novità è che per la prima volta, da quando Daniele Sebastiani è presidente o dirigente, che questo passaggio di consegna arriva ad inizio stagione. In Serie C, nel gennaio 2010, Eusebio Di Francesco prese il posto di Antonello Cucureddu ad inizio del girone di ritorno. In Serie A, a marzo 2013, Cristian Bucchi subentrò a Cristiano Bergodi. In Serie B, nel maggio 2015, Massimo Oddo sostituì Marco Baroni. Ed infine, sempre in Serie B, a marzo 2018, è toccato a Massimo Epifani a vicendare Zdenek Zeman. Esperienze con esiti diversi. I grandi risultati sono arrivati da Di Francesco, promosso in B ai play-off, e Oddo, che ha centrato due finali play-off, vincendo la seconda con tanto di promozione in Serie A. Poco da fare per Bucchi, che non invertì il trend di una squadra impicchiata. Male Epifani, la cui gestione peggiorò il rendimento della squadra fin lì guidata dal Boemo e con Pillon, chiamato a indossare i panni del Salvatore della Patria ed evitare una clamorosa retrocessione. Zauri sarebbe al debutto da allenatore di una prima squadra, ma non si può dire che non abbia fatto una sua gavetta. È stato collaboratore tecnico nello staff di Massimo Oddo, proprio nel Pescara e successivamente nell'Udinese, per poi staccarsi e intraprendere l'esperienza professionale da capo allenatore, appunto con la primavera bianca-azzurra. Tra poco per lui si aprirà dunque una nuova importante parentesi, con una squadra che avrà uno zoccolo duro di giocatori esperti, ma che dovrà coniugare risultati sportivi a valorizzazioni di giovani, non solo quelli in prestito, ma, cosa mancata negli ultimi tempi, anche dei prodotti delle giovanili bianca-azzurre.